ciao a tutti cari e benvenuti in un nuovo video questo video io non ho il solito tono ciao a tutti no perché è un video serio e ogni tanto ne faccio e poi ovviamente faccio anche video haul eccetera eccetera e ultimamente mi sto aprendo con voi per quanto riguarda molte situazioni di salute mi sto fidando sto avendo fiducia è appunto ben ripagata quindi per quelle di voi che veramente mi vogliono bene io racconto un po la mia storia racconto un po la mia storia il diario sostanzialmente nella mia vita di una vita che anche nel presente comunque ormai è ricca di progetti eccetera attraverso appunto la conoscenza con voi ho conosciuto persone meravigliose persone che hanno notato anche il cancro e anche qui faccio un po un outing io sono impodente nel senso che all'orecchio destro in una sordità profondissima e qui sta iniziando a seguire il suo amichetto non vi ho voluto fare partecipi dell'ultima visita del otorino per fortuna ho trovato qui accanto un otorino meraviglioso che mi ha fatto un controllo veramente approfondito di cui sono contentissima avrei dovuto fare un'analisi per l'apnea però non non l'ho fatta per l'incidente sostanzialmente il problema è che ho avuto un cancro si può avere un cancro all'orecchio si esatto le chiamano forme benigne ma sono comunque forme aggressive a seguito questa tipologia di cancro l'ho avuta a seguito di un di una serie di raffreddori che purtroppo non sono del tutto passati per il fatto che il naso è qui stretto ed è deviato quindi non drenava le infezioni eccetera eccetera finivano sempre orecchio gola eccetera eccetera e l'orecchio a un certo punto ha formato una ciste una massa quindi queste infezioni hanno fatto da nutrimento questa massa che ha cominciato a produrre delle cellule cellule anomale che hanno cominciato ad aggredire tutte le ossicine dell'orecchio come me ne sono accorta perché ho fatto l'ennesimo tite con perforazione del timpano quando appunto perforato il timpano sono andata da uno torino questo torino a differenza di altri non mi ha dato i soliti isomarre soliti diciamo ritrovati che avevo sempre preso mi ha voluto fare dei controlli a un certo punto i miei genitori visto la quantitativo dei controlli il fatto che mi faceva continuamente la pulizia dell'orecchio gli chiesero ma scusi perché lo sta facendo e lui ha detto dice perché c'è una massa si chiama colesteatoma e deve essere operato io sono certo al cento per cento che è un colesteatoma i miei genitori hanno chiesto un secondo parere che poi ha confermato la massa colesteatomatosa infine hanno tentato di farmi operare in italia ma siccome questo medico questo professorone italiano voleva per forza operarmi in clinica privata mi fece soltanto un'esplorazione una timpanotomia esplorativa per poi richiudere il timpano col tumore dentro il tumore inutile dirlo è impazzito ha cominciato a farmi i polipi ha cominciato a farmi tutta una serie di cose brutte per cui sono peggiorata in un attimo e peggiorata in un attimo e io ho cominciato ad avere problemi al sistema vestibolare nel senso che mi girava la testa sempre più spesso la mattina era inutile io avevo dei dolori forti per cui ero a antidolorifici fortissimi per dirvi gli antidolorifici vicini a quelli che prendono quelli che hanno dei dolori oncologici veramente gravi quindi a un certo punto non potevo diventare una tossica di questi antidolorifici per cui mia madre sollecitava questi medici italiani ma ci date sta graduatoria per farlo operare ci date sta graduatoria per farlo operare sintesi delle sintesi ci dicono sarebbe più veloce se andasse al privato al privato avrei dovuto sottopormi a tre interventi non risolutivi perché in italia chiudeva nel timpano quindi non avrei risolto nulla se la massa di cresceva avrebbero dovuto riaprirmi il timpano un casino io ormai praticamente si era mangiato pure il timpano quindi non c'eravo più e avevo perso l'udito da questo orecchio quindi i problemi anche lì a scuola non potevo dire niente perché i miei genitori mi hanno detto di non raccontare niente ai miei compagni io ero distrutta perché sapevo che c'era questo problema sapevo che c'era questa situazione di questa operazione incombente ma non sapevo dove non sapevo quando eccetera eccetera mia madre si decide e chiede il numero della spagna come aveva detto quel famoso torino che mi aveva fatto la prima diagnosi e praticamente il dottore si stupisce che l'abbiamo chiamato così in ritardo quando il tumore era avanzato così forte e che forse eravamo a malapena in tempo perché rischiamo di entrare in coma perché dalla mastoide poteva finire fino alla meninge e quindi provocare una specie di meningite in sostanza arriviamo in spagna dopo aver fatto tutte le analisi e sono stata stupita della velocità e della professionalità perché io sono stata in ospedale un giorno e mezzo nel senso in ricovero mi sono fatta l'intervento poi alle due sono uscita alle sei del pomeriggio dopo quattro ore di intervento mi hanno fatto un'anestesia particolare avevano appunto già le sacche di sangue pronte in caso avessi avuto un'emorragia erano pronti a tutto ovviamente nausea dopo l'intervento sono stata tutta una notte male e poi domani verso l'una mi hanno dimesso con l'accortezza che io devo uscire soltanto nelle ore calde dopodiché devo stare dentro perché avrei avuto la febbre e così è stato allora il tumore poteva provocare delle recidive ovviamente io dopo un anno e mezzo ho avuto una recidiva da allora io non posso andare sott'acqua non posso non sento sostanzialmente io non sento qui ho una memoria anche grazie a questo orecchio che mi funziona in più riguardo ai suoni però se una persona mi parla da questa parte io devo toccare la spalla per percepire le vibrazioni dei bronchi cosa sta dicendo quindi diciamo non sento parecchi suoni devo fare coperture antibiotiche ogni volta che ho un'infezione al naso in quanto anche lo spray deve essere antibiotico in quanto appunto queste infezioni sono da terreno fertile per un ritorno di questa massa detto questo io ora ho risolto la situazione ma quando faccio lo shampoo metto il tappo qui non posso andare sott'acqua ripeto sento parzialmente quindi se una macchina mi viene dal di dietro potrebbe pure beccarmi ammazzarmi io non sentirei dietro se non mi fanno il fisco e non me lo fanno se non mi fanno il cenno e non me lo fanno notare di guardarmi dietro io non lo capisco se viene una macchina quindi queste sono le situazioni mi commuove sentire le storie delle persone che sono diciamo ammalate appunto di tumore o lo sono state il mio ovviamente non è stato al loro livello io non mi metto nemmeno a pensare di quello che queste persone stiano passando con questa spada di damocle sulla testa perché veramente hanno tutto il mio amore e tutta la mia comprensione però posso comprendere situazioni gravi non posso neanche pensare se fossi entrata in coma io allora non ne avevo coscienza perché sinceramente non so come avrei affrontato la situazione non lo so non ci voglio minimamente pensare non ci penso ora io vivo normalmente sapendo che se mi viene un diabete potrei totalmente perdere l'udito quindi dovrei mettere l'apparecchio acustico e tutta una serie di cose volevo raccontarvi un po la mia esperienza anche per parlarvi di un tratto della sanità appunto italiana che come sapete è una chicca e niente vi saluto con questo mio racconto col fatto che non mi piango addosso perché ripeto io non posso immaginare situazioni veramente che terminari e non posso immaginare come sarebbe andata se avessi procrastinato ulteriormente però vi posso dire che quando da gente mi saluta e mi ti sto seguendo io sono seguito youtube a seguito poi di un periodo in cui mi sono ammalata hanno tutto il mio affetto tutta la mia comprensione sappiate che non mi disturbate affatto a contattarmi in privato se mi volete chiedere l'amicizia su facebook o cose del genere io non sono assolutamente una persona anzi condividete con me la vostra storia condividiamo la stessa forza la stessa voglia di vivere perché sul fondo di non volerci pensare c'è anche la voglia di voler vivere la vita pieno e con quello che c'è nel presente ecco un bacio a tutti vi auguro una buona serata io vado a controllare il macco di piselli e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.